Il prossimo brano che ascolteremo si intitola Texas, è stato composto da Anzio Ortolano, nato a Montemaggiore Belsito in provincia di Palermo. Compositore eclettico e di grande sensibilità, spazio, naturalezza su tanti generi musicali, con oltre 100 composizioni destinati a svariati organici. La sua musica, caratterizzata da una spontanea inventiva melodica e da ora fino a un autobusco compositore, armonico, colpisce la sensibilità del pubblico, raro se non unico esempio di compositore che vede molte delle sue opere pensate per la banda. Texas, il brano che stiamo per ascoltare, ci fa immergere in un'ambientazione musicale che ricorda i grandi spazi del continente americano, con temi e ritmi che valorizzano le potenzialità della banda. Dirige il maestro Giancarlo Ferraro. Generale di coli carvedo e con te recogliere, darmi i piacinici, con te recogliere in un'ambientazione di coli di poli, gli grimo palmi, am di ricordare in un'ambientazione musicale, con te recogliere un'ambientazione musicale e invernali di coli di coli. Guardo voto su caratterizzano molto kese, di ricordare in un'ambientazione musicale, con te recogliere in un'ambientazione musicali, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.